Anticipazioni puntata Il segreto di mercoledì 14 dicembre 2016 Francesca è il mittente del biglietto ricevuto da Eliseo. La matriarca offre il suo aiuto a Villaverde per colpire Severo. Incitato dalla nonna, Bosco rompe la sua amicizia con Severo, pensando che sia stato lui a cercare di uccidere Francesca. Raimondo crede invece a Severo e pensa sia stata una messincena di Francesca per isolare Bosco. Agli Aral continuano a giungere telefonate anonime e Bosco chiede spiegazioni a Berta che continua a negare che siano per lei. Nel frattempo Eiball inizia a ricattare Gracia e Mariana a paura che Fuensanta voglia decidere del futuro di Juanita. Raimondo va alla villa, ma Francesca si è accorta che sua zia sta sentendo la loro conversazione e così finge di essere indifesa vittima di un'aggressione. Grazie per la visione.